Giulia Deide, il sindaco di Santa Croce sull'Arno, anche lei è in visita presso gli stand a Linea Pelle, come hai trovato i tuoi imprenditori? Allora, i miei imprenditori li ho trovati molto bene, sono entusiasti, credo che questi tre giorni di Linea Pelle siano andati bene, poi insomma bisogna vederlo con il tempo. Comunque questo per me è un appuntamento irrinunciabile perché si tocca con mano e si ha la sensazione del lavoro che i nostri imprenditori fanno durante tutto l'anno, quindi questo è davvero il momento di orgoglio santacrocese e io sono contenta di non mancare mai. E non puoi mancare a questa kermesse che si svolgerà oggi pomeriggio, Amici per la Pelle, nato proprio all'interno della stazione cociatori di Santa Croce sull'Arno e vediamo già una grande affluenza di bambini, oltre 600. Sì, vedere i giovani e le giovani generazioni qui a Milano è davvero uno spettacolo straordinario, noi abbiamo inventato questo progetto Amici per la Pelle e abbiamo tenuto anche di esportarlo negli altri comuni che comunque lavorano la pelle come noi. E' davvero un investimento sul futuro, insomma questo progetto parla del nostro prodotto d'eccellenza e parla delle future generazioni, quindi un connubio perfetto e vederli qui a Milano è davvero una bella sensazione. Devo ringraziare, mi corre l'obbligo, la scuola, i coordinatori di questo progetto perché anche l'assistenza a 1200 ragazzi, non solo il distretto di Santa Croce ma anche di Arzignano e Solofra, insomma è davvero un bel impegno, quindi grazie anche alla scuola.